Da 15 anni, Harry Tasker ha una doppia vita. Signor Presidente, abbiamo già piazzato uno dei nostri migliori agenti all'interno. Trasmettere adesso. Ora, stando per entrare in collisione. Qual è la tua strategia per uscire? Uscirò direttamente dal cancello principale. Posso vedere il suo biglietto d'invito, per favore? Sicuro. Ecco qui il mio invito. Ufficio del signor Tasker. Ciao, sono Helen. Lui è lì? Harry è in una rinone commerciale, signor Tasker. Insomma, non sarà mica impegnato a salvare il mondo? Da James Cameron, regista di Aliens e Terminator 2 Arnold Schwarzenegger. È un Mirv 6 sovietico posto su un veicolo di lancio SS-22M. Ho sposato Rambo. Jamie Lee Curtis. Hai mai ucciso qualcuno? Sì, ma erano tutti cattini. True Life. Che posso dire? Sono una spia.